Napoli celebra il teatro di figura. Questa mattina, nella sala giunta del Comune, l'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele ha consegnato al maestro burattinaio Adriano Ferraiolo un riconoscimento della città. Con la sua compagnia, Ferraiolo è l'erede di una dinastia di artisti girovaghi che da oltre 150 anni, di generazione in generazione, diffondono l'amore per una forma d'arte popolare e colta allo stesso tempo. Sono contento che è per la prima volta che vengo premiato qui a Napoli. Napoli è tutto, è tutto. Io ho lavorato per 25 anni al teatro San Carruccio a Napoli, all'epoca di Troisi, l'Eloarina ed ho avuto il piacere anche di conoscere e posso dire che Napoli per quanto concerne la nostra professione è fondamentale. Peccato che io non riesco a dare molti spettacoli qui nella città, però quando sono chiamato praticamente ho sempre molta molta gente che gusta i miei spettacoli. L'omaggio al maestro Ferraiolo è stata anche occasione per annunciare l'apertura il prossimo 28 aprile della Casa delle Guarattelle Nunzio Zampella, voluta dal maestro guarattellaio Bruno Leone. Un luogo destinato ad accogliere una programmazione stabile in Vico Pazzariello 15 con spettacoli ed artisti che ripercorreranno gli sviluppi di quest'arte nel tempo. La storia è in effetti, diciamo, il mondo perché è la prima volta che si apre un teatro delle Guarattelle che sono state sempre in strada, da più di 500 anni. Potrà mostrare meglio un'arte che è stata sempre, diciamo, importante, ma non solo per la cultura napoletana perché è stata un'arte che ha avuto una diffusione mondiale e io quello che sempre dico, cioè Napoli, dobbiamo vivere come capitale mondiale, non come semplicemente la nostra città. Le celebrazioni dedicate al teatro di figura aprono la venticinquesima edizione del Maggio dei Monumenti che quest'anno ha come tema il diritto alla felicità. Noi abbiamo definito questa giornata aria di maggio, innanzitutto per fortuna oggi è una splendida giornata e poi siccome il ponte di Pasqua ci porta direttamente verso il Maggio dei Monumenti che quest'anno è dedicato al diritto alla felicità. Abbiamo pensato che questi maestri, il maestro Ferraioli e Brunello Leone, che rappresentano questa straordinaria, bellissima, entusiasmante tradizione della nostra terra, della nostra Napoli, della nostra Campania, che assicurano la felicità, momenti di felicità ai bambini fossero il prologo più bello per questo Maggio dei Monumenti.